guarda prima cosa mi preoccupa abbastanza comunque il prossimo mondiale bandite gli aiuti ti avverto che Enigmista con i suoi cazzo di... non c'è proprio dubbio che bandiamo gli aiuti che c'entro io mo? che c'entro tutti gli aiuti sei l'unico non credo eh sei l'unico dai veramente ho fatto il volante senza aiuti lui è Marco guarda sta nel servo freno guarda che ho guidato col volante senza aiuti eh io li uso cazzo io ho dato retta a Brian mi sono fidato ma guarda io con gli aiuti li ho penalizzato che pioveva hai messo le gomme da bagnato? no no l'assetto è il più conservativo e tra le gomme da bagnato qua non ha il numero? forse è l'unico lente basta non piove già che ci sembra le nuvole in marene è difficile adesso la campionata è falsata perché voi state col volante e io col joypad io ho il joypad allora è falsato è falsato qualcuno di voi ha fatto gli screenshot dei qualiti ma sono dimenticato tutte e due le gare no eh questa mi sono dimenticato anch'io quella di prima l'ho fatta io ho fatto quest'ultima bravo ultimi non andare i tempi poi perché devo scriverli bravo non prenda pericolosa eh bravo bravo io a sinistra faccio un macello ok ok io mi dico il mio destino allora stoffa e lo butti fuori e diventi il mio idolo ah vanno come chiude eeeh eeeh Ma come si fa oh? Mosetto rotto, penalità, non si può. Due penalità mi ha dato cazzo. Due? Due, non so perché. Auro off. Era un intervento a gamba attesa quello. E' mancato poco Vincenzo. Mi sono passato la striscia. Siamo calmi che c'è ancora tutta la gara. Siamo calmi che c'è ancora tutta la gara per presto. Qua non ti posso credere. Brian scusa ma non era colpa mia. Ho nessun problema. Cosa puoi fare? Osservando il radar non dovrebbe esserci pioggia oggi. Cioè se ho doppia penalità mi lo spiegano eh. Ma perché sembra il box ha una penalità? Vincenzo. Ho due penalità che non so il motivo. Ah è più solo la penalità. Pappa in testa. Sì. Spero che a me non l'abbia penalizzato. Ma non è stato un gran caso l'incidente? Ma si chi ha buttato fuori Alessandro, retto sul muro. E' che ha causato l'incidente. E' che non ho visto male, mi spiace quando mi fa dentro. No, io non ti ho preso a te. No, non ti ho preso. E' che mi hanno preso a me dietro e mi sono arrivato in giù a te. No, no, mi hanno preso a nessuno. E come che ti hai girato? E' in accelerazione. Cazzo, Marco e Mauro. L'ho preso. Eh, qua te! Polito si fa largo buttando fuori gli altri. Cazzo! I commissari di gara hanno autorizzato l'uso del piano. Facciamo un altro giro in realtà. Eh, benvenuto nel clan. Squalificato! 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 Grandissimo! Sei un mito! E' rimandata che ho pensato un petino a male. E' rimandato se è girato. Beh, adesso è regista da spettatore. Bello registrare da spettatore, eh? Fai tante... ...difatti... 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 ...do stesso, eh! RA V FAN CUL... D'accordo Il DRS Potevi aspettare il DRS Ho fatto niente Ho fatto niente, sei andato lungo tu Cioè io almeno non penso di aver toccato, ero lontano Sono anche frenati in anticipo Il nostro Mazzoni, cioè Danilo, non dice niente Ma vederla da dietro, sembrava che il punto c'era un stazzo che fosse stare Sì, mi ha preso A me non sembrava, però vabbè Stato, pardon L'importante è che non sembra della penalità Samponare così diretto da dietro non le dà Io ormai ho l'incubo dei Valetti, ci stavo lontano un miglio Adesso sto con un buon camera con Mauro Sto recuperando Al when O o o o o o Chi l'ha fatto? No, Ryan. Ah, dopo sto registrando i tempi che fa Mauro, eh. Dovrete assolutamente vedere. Prendimi per il culo, eh, se ti capita. Wow. Attenzione. Che ha fatto quello lì? Stavo a girare, ma. E si è girato, Mister Stop? Papà, si è girato e ha sbattuto. Stop ha sbattuto? Papà, si è girato e ha sbattuto. Dimmi, Oliva, com'è? Com'è il musetto? Eh? Genaro, porca puttana. Un giraporto è buona. Un giraporto è buona. A tre secondi, pure vicino è rimasto. Che culo. Se lo facevo io questa cosa, mi ritiravo direttamente. Cazzo, sto zero ultrassitica ci vuole, no? Eh, capita. Il pilota che ti precede sta provando a distanziarti. Ha impostato il motore sulla massima potenza. Ma è diventato grigio, Stoppa. Che è successo? Siamo pronti per il piccolo. Abbiamo la possibilità di guadagnare una potenzione, usa la modalità carburante 3, modalità carburante 3. Cerca di recuperare terreno sul pilota che ti precede. Al momento il distacco è di due secondi. Oh, Stoppa, già mi sta recuperando, eh. Ma dove sei tu? Sì, io. Eh. Ma parla con me? Sì. Che l'onda. Sì, ma Stoppa e rimonta però. Non mi consigli, Danilo, questo giro è il prossimo il cambio. Ora devi effettuare il pit stop. Sì, ancora c'è i gommi, ma te ne apro. Mauro, tu hai box adesso? Fa un po'. Vabbè, tanto, anche se dentro, rimani fuori. Forse un altro riesco a farlo. Io non vado ai box. Marchia uomo. Roberto si è fermato. Vai, via. Stop impeccabile della Ferrari. Ma Stoppa già mi sta prendendo. Un po' va veloce, beh. Eh, lo so. Non come in Cina, ma fa veloce. Tre, due secondi. Cerca di preservare i pneumatici. È arrivato. Le gomme sono finite, eh. Io vado. Occhio a guardare i pneumatici. Occhio a guardare i pneumatici. Tu che ho bruciato me la sei, oliva. Sto cercando Brian. Paramas e tu. B economically. Sì, io... Sì, io... dentro le box. Blaura, io ho avuto il box. Si, che non è��� Carol. Solo alla vaina. I non hanno passato? Per es to oggi mi hanno discusso. Ora io ho avuto checkpity. Ho avuto il box XS? Oh, in quanto musica parlare. Allora io ho v sociedad. Questa è dato, che non è di che, è stato avuto questa parte. È chippity. È stato una pizza, Sì, volendosi, in stoppa continua stoppa, meglio. Cosa fa Marco? Quanto è stata la tua sosta Brian? Ah non lo so guardato minimamente. Sto guardando se non arrivi, fare che non arrivasse nessuno. Sto che stoppa non guadagna abbastanza per passarmi l'avvento. Non penso, le bombe erano finite, le mie. Beh va un po' più veloce di me. Un'uomo più dura e non riesco. Il pilota che ti precede sta provando a distanziarti. Ha impostato il motore sulla massima potenza. Ha impostato il motore sulla massima potenza. Tutto passa a spingere. E che giro ha fatto? Ancora lo devo molto attenti. Però quello primo ha 35,9. 35,9. Io avevo 35,7 di mio record. Io ho 37. Brian non lo passa, io non lo so se lo passa. Però mi ha vp di 6 secondi, spero di sì. E io non ce la faccio. Io passo adesso. Ma anche tu forse. Ma forse... Ma lo so. Dove è quello là? È uscito. Qui ma c'ha le gomme fredde per me. Quando stoppa? Gomme dure. È vicinissimo. Ha le gomme fredde. Se va male lo super. No niente, va bene ma. Sono io che vado male. dai entro un secondo puoi usare il DRS dopo si sono dentro il secondo potrei usare il DRS alla fine se non mi recupero però qua niente neanche il DRS metto sono arrivato lungo quella merda di urba il DRS alla fine Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un po' più amminino. 35.5. Sparato mezzo su tonno. Ha messo anche la benzina al massimo. Mi ha detto l'ingegnere. Dopo il motore. Un po' più amminino. Un po' più amminino. Non è messo Ocelot. È fatto ma... Non credo riesca a riprendere altre posizioni. Roberto come stai girando? Io 37. Buonasera. Un po' più amminino. Sì, sì, sì. 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 È sceso sotto l'1.35. io ho fatto 1.35 3 si recupera poco recupera 3-4 decimi faccio una boiata io sono senza benzina altro che uso poco a lungo a lungo ti consigliamo di celestelare la operità carburante 2 in questa fase siamo all'ultimo giro cerca di superare chi è presente per conquistare dei punti iridati a lungo a lungo a lungo a lungo No No Luca! Aubert, prima preparazione zonale Oddio, andate si due Per Y non è... No! Oddio, stai anche a fare C'era solo che inizia Ah, c'era... Poco, eh? Dovissi cambiarsi Assurdo Primo podio per la Ferrari Era primo podio pure per te, ve l'ho detto Ce lo siamo proprio scatti Sì, ce lo siamo Patto di fino all'ultimo, fino al stato e finish Ma attenzione che... Primo punto anche per Marco Anche Marco Ah, caro, il mio Danilo è buttato via dei punti Eh sì Salirai sul terzo gradino del podio Bella gara, complimenti! No, no, praticamente... Mi...